ora ragazzi due cose in citore del contest è Yassin e mi raccomando a mezzanotte tutti su spotify perché esce il disco dell'spa dove sono presente anche io e il mio bro saian bull oh oh ma devo svegliare ma devo svegliare capito o non hai capito che cazzo esce no dimmi se hai capito spotify ha scelto di non farvi sentire la canzone basta non sappiamo il motivo non sappiamo il perché ragazzi comunque presto sbloccheremo le cose non mi chiedere cosa armamentario da guerra più sottoterra sotterra 2 mire scarrella manchi di rispetto finici parella per onore rischio la cella calibro il tiro col calibro alto tiro sin famigio rambo giovane in alto col pacco spegne voi fari volando non parlo con lei sto già andando via non farli di soldi con le spie e baby famiglia siamo rari senza bene il pc sopra orari non ci parlo con le ex spie e baby in tutta armani ora c'è lo sopra nec ci fumiamo solo cali non conosco filo stress con due nove manali baby come la litogaina polvere bianca nel cofano supera il posto di blocco dal quartiere fino ad ossialito sta giocando essere freddo ma non siate come freddo dai quartieri quelli popolari giochi con le mani o con il ferro sto parlando da un telefono ma è piccolissimo fa la voce da donna stupido fumando un porro con mio hermano nello studio la tua tipa sta venendo subito simo g ha una palconota per ogni paranoia fumo cali sotto cazzo papà baby non faccio dissi dai tempi delle sole non getto sua fila gici non mangio senza neppi non scopo senza acqua ficci non fotti le spia baby 100 bombe per un fit scemo prendi perfumare e prendi sbaccio scemo per 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 la famiglia faccio l'ergastolo colpo dopo quella della quattro la taglio da una quattro la mattina mi sveglio ho mille chatte diverse cinque app diverse mio fratello converte il culo sopra un po sette be sto parlando da un telefono ma è piccolissimo fa la voce da donna stupido fumando un porro con mio che ero rimmano nello studio la tua tipa sta venendo subito brifo